Intanto, ipertensione, diabete, obesità, poi quando vanno a far parte di, diciamo, i fattori promuoventi, quelle che sono le patologie cardiovascolari, superano anche il tumore come incidenza della mortalità nella nostra popolazione. Quindi, sì, il tumore è al secondo posto, ma questo genere di patologie cronico-degenerative che poi portano a patologie di tipo cardiovascolare sono al primo. Quindi non possiamo, diciamo, non averne consapevolezza. C'è da dire oggi che la nostra società, ho parlato, ho voluto scrivere il termine epidemie, di solito epidemie si usa per le patologie infettive, no? Non sono patologie infettive, quelle di cui parleremo oggi, non sono patologie a trasmissione, a contatto o per, come dire, trasmissione interumana, no? Ma sono patologie dovute a cattive abitudini che, ecco, vedete, ho portato una definizione di epidemia, è proprio sopra il popolo, cioè questa manifestazione collettiva che si diffonde rapidamente a prescindere dalla volontà del singolo. Ma qui siamo, diciamo, quasi alla stessa stregua, perché, ripeto, non c'è un virus, non c'è un batterio che trasmette l'ipertensione, così come il diabete o l'obesità, ma forse dovremmo cercare nelle abitudini di vita questo, tra virgolette, agente virale o batterico, tra virgolette naturalmente, che veicola abitudini distorte e a quel punto quelle abitudini distorte una volta instauratesi in modo quotidiano nella vita di ciascuno, poi portano all'insorgere di questa patologia.